Che cosa spinge un uomo qualunque a essere costantemente ossessionato dal proprio braccio destro? Abbiamo tentato di rispondere a questa domanda e per settimane, per mesi, abbiamo seguito quest'uomo nel suo habitat naturale. In tutto questo tempo egli ha continuato a porre attenzione esclusivamente a quel braccio, forse unico compagno fedele della sua vita. Con tenacia siamo andati alla ricerca del senso, cercando di capire per quale motivo questo strano uomo abbia dedicato la sua intera esistenza, tutte le sue energie, a questa bizzarra abitudine. E non pare possibile alcun tipo di solidarietà umana. Quest'uomo è soltanto interessato al proprio braccio destro, sotto lo sguardo attonito dell'umanità che non comprende. Seguirlo non è stato facile, né rispondere a questa difficile domanda. Perché quest'uomo riserva così tanta cura e dedizione al suo braccio destro? E non è stato facile, né rispondere a questa difficile domanda. Grazie a tutti!